Buongiorno e bentornati nella mia cucina, quest'oggi faremo un piatto spettacolare abbiamo circa 800 grammi di frigidelli biologici di manziana li faremo ripieni di formaggio silano e foderati di pancetta puliremo prima i nostri frigidelli per quanto possibile all'interno metteremo del formaggio silano e avvolgeremo la pancetta e inforneremo al forno sarà un piatto spettacolare allora taglieremo i nostri frigidelli e per quanto possibile leveremo i semi all'interno il taglio ci servirà per inserire il formaggio e rimetteremo a scolare vedete scegliete i frigidelli che chiaramente possono essere riempiti non aggiungeremo nemmeno sale perché la pancetta è saporita la pancetta l'abbiamo presa al nostro mercino di fiducia naturalmente vi invito a iscrivervi al mio canale a seguire i miei video e a condividerli eccolo qui ora facciamo scolare i nostri frigidelli e li asciughiamo bene ecco qua abbiamo il nostro frigidelli il nostro silano all'isseri lo inseriamo dentro così poi avvolgiamo due fette di pancetta dobbiamo coprire tutto tutto il peperoncino diciamo eccolo qua guardate che spettacolo quando lo infornate lasciate la fessura aperta del formaggio verso l'alto chiaramente nel frattempo abbiamo acceso il forno a 180 gradi per preriscaldarlo ecco qui se vi piacciono piccanti potete aggiungere al formaggio chiaramente un po' di peperoncino noi oggi li proviamo così ecco qui tagliamo l'altro formaggio e vai con la pancetta taglio verso l'alto e mettiamo nella rienda taglio verso l'alto e sigilliamo con la pancetta taglio verso l'alto e sigilliamo con la pancetta l'alto e sexy ecco qua procediamo così per tutti i frigidelli ecco avvolgiamo l'ultimo ecco qua ora inforniamo quando la pancetta sarà croccante sicuramente il frigidello e il formaggio saranno cotti a dopo sono trascorsi 25 minuti a 180 gradi ecco i nostri frigidelli ora assaggiamo attenzione che saranno infuocati guardate che spettacolo spettacolo vero